La parola di oggi è chincaglieria. Il significato comune di questa parola è quello che fa riferimento a un soprammobile, a un oggetto di bigiotteria di cattivo gusto e di nessun valore, a un oggetto minuto, a un indolo appariscente ma di poco valore, usato per ornamento della persona o della casa. Diciamo quindi ad esempio, quella collana è una chincaglieria, quella è un negozio di chincaglierie. Ho visto un salotto pieno di chincaglierie. Questo è l'uso corrente della parola. In realtà, chincaglieria è un nome collettivo, come ad esempio la parola gregge, e il suo significato sarebbe un insieme di chincaglie, quindi questo è il significato originale della parola chincaglieria. Quindi non dovremmo dire quella collana è una chincaglieria, ma quella collana è una chincaglia. La parola chincaglia, ormai completamente dimenticata, è una parola onomatopeica che deriva dal francese clincaille, che a sua volta deriva dal verbo clincaire, che vuol dire fare rumore. Poiché il parlare corrente modifica il linguaggio, oggi è comunemente accettato l'uso della parola chincaglieria sia come nome collettivo, per indicare un insieme di cose, sia come nome individuale per indicare un singolo oggetto.